E ciao da Barbara e da Lara! Bentornati! Oggi facciamo un video back to school, ma Lara non sa niente. Quindi qui sotto ci sono delle cose che io ho sfelezionato, una cosa l'hai appena vista, che non è della scuola, vabbè 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 vabbè. Ho sfelezionato delle cosine per Lara e adesso vedremo come reagisce. Anche io non so, ma penso che si potrebbe emozionare. Alcune di queste cose secondo me non le hai mai viste, altre invece sì. Allora, facciamo partire la sigla. E intanto, questo l'hai già visto, te beccate una ciuca a ciuca. Sigla! Partiamo dal primo. Allora, servono per riempire degli spazi. Colori? Bene, ma ci sono tanti tipi di colori. I primari. Questi sono dei colori un po' delicati. Un po' soft. Ti copro la faccia, quasi tu non vedi. Diciamo che ti piacciono molto. Sono molto... È nelle tue corde come tipologia di... Ti nascondo tutto il capo. Eh? Ci sei? Bastello? Brava! Guarda un po' che c'è. Madonna! Allora, la prima reazione direi che è andata bene. Sì. Allora, questi li ho trovati al Carrefour l'altra sera. Ero andata a fare la spesa. Al Carrefour? Al Carrefour, sì. Ed erano in offerta. Se erano a prezzo pieno non te li compravo. Però c'era l'offerta. E quindi ti li ho presi. C'era proprio l'espositore della Carioca. Con tutti quanti... Tutto la pastello. C'erano gli evidenziatori pastello. Le matite, le penne, le penne gel. Ho scelto i pastelli... Pennarelli e matita. Eh sì. I pastelli a matita e quelli a pennarello. E sono carini perché in effetti queste gradazioni, questo tipo di verdino, anche questo rosino così, in genere non ci sono mai nei colori normali. E soprattutto c'è una cosa che Lara negli anni mi ha chiesto ripetutamente e una volta, lo devo dire, siamo andati all'ingrosso. Io non ho dovuto comprare un pacco da 12 tutti uguali. Il color carne. Pelle. Ti ricordi che avevi la fissa per il pennarello color pelle? Ah. Esatto. Poi ovviamente l'ha regalata a tutti gli amici perché ce ne aveva un secchio, ce ne aveva veramente troppi. Quindi si era fatta comprare i colori quelli per i Copic, quelli per fare i fumetti. Color pelle. E qui il color pelle ci sta perché questo rosino qui è perfetto. Ok, questi sono i primi due. Cioè diciamo che è pelle un po' più scure, diciamo, quello. Poi c'è un'altra cosa che ho visto. Veramente l'avevo visto da una recensione americana su una cosa della Crayola, che però qui ancora mi sa che non è arrivata. L'ho trovati senza marca su Amazon Inghilterra. Cos'è? Ve li faccio vedere tra poco. Questi sono dei pennarelli molto particolari. Si chiamano outline. Quindi ogni pennarello ha il bordo incorporato. Non ci avete capito niente e continuate a guardare il video perché questi, se funzionano, sono la fine del mondo. E poi c'è una cosa che ho comprato perché, boh, sei la mia bimba, ti devo fare un regalino. E quindi ti ho preso questo... È un quaderno. È un blocco. Mostra. Nero. Mostra. Oh, mio Dio. Ti piace? Madonna. Madonna. Sei contenta? Grazie. Ecco, l'avevo vista poche volte così. È semplicemente un blocco. Cercavo merchandising di Billie Eilish. Visto che le piace tantissimo. E quindi non ci sono diari, non c'è niente, non c'è roba di... Però c'è, ho trovato questo. C'è questo. Quando finirò il quaderno, penso che me lo esporro qua. Ah, te lo tieni in esposizione? Eh sì, questo ci scrivi quello che vuoi. E poi tra l'altro mi piaceva un sacco la foto perché era più bella, bella, bella. Everything we wanted. E' contenta? Grazie. Adesso andiamo a vederci sui fogli di carta come colorano questi cosi, se no anche l'abbiamo fatta a fare il video solo per vedere Billie Eilish. Ok, giriamo la camera e coloriamo. Stai a mangiare i super chips? Mollala un po'. Adesso ti ho dato no. Molla quella ro... Cominciamo dai pastello. Quanto è bello questo quaderno. Allora, tra l'altro questo è proprio all'ISBN, quindi l'hanno registrato come se fosse un libro, quindi è una cosa... Boh, non so se è mercendiasi ufficiale, però è regolare, ha un codice. ISBN. Partiamo da... Eh, tu tiri fuori i pastellini, io tiro fuori i pennarellini. C'è scritto che sono super washable. Io quando eravate più piccoli cercavo sempre questa cosa del super washable, perché lavare i vestiti è facile, ma lavare i bambini è un disastro. Adesso siete grandi, quindi non c'è più questo problema, però era quello, per non fare il bagnetto con la candeggina. Allora, facciamo una prova. Allora, vediamo qui il color pelle, se è veramente color pelle. Sì! Bellissimo! Ma veramente, è stupendo! Proviamo quelle in matita. Ok, vai. Faccio così l'interno. Sì, fantastico. Questo veramente per disegnare i manga, perfetto. Tra l'altro i pennarelli mi piacciono molto perché sono quelli con la doppia punta, quindi possono scrivere molto sottile, ma se li appoggi così fanno anche un tratto invece molto più grosso. Sfumati benissimo. Vediamo gli altri colori, sono curiosa. Questo salvietta qui mi piace tanto. Guarda che bello! Sembra Tiffany proprio, guarda. È vero. Ah, è bellissimo. Guarda, guarda. Ma facciamoli velocemente perché io voglio passare a quelli outline perché devono essere veramente belli. Eh sì, scuspino. E' al contrario. Dai, vai, giallo, giallo. Questo anche mi interessa, quest'altro verde è un po' più erbetta. Oh, guarda che carino! Che volte fai le foglie e ti vengono quel verde... Oh, questo è perfetto ancora per la pelle. Sì. Cioè, sembra arancione, però... No, no, è un becettino. È questo grigio? Fammi vedere se ha un senso. Interessante. Tutti molto delicati. Proviamo anche il lilla perché ci sta. Questo invece è molto più carico di quanto pensavo. Guarda quanto è colorato. Idem. Quello a matita? Sì, anche quello è piuttosto carico. Togliamo tutto. Togliamo anche il foglio e passiamo a questi outline. Che significa outline? Che hanno il bordo. Vediamo se questa cosa... Prendiamone un occhiarino e vediamo che esce fuori. Credo che vadano sbattuti. Sì, infatti all'interno hanno una pallina. Mi tremano le braccia flaccide quando faccio questa cosa. Ok, adesso lo scappiamo. Ah, sono già imbevuti? Vado? Il mio no. Il mio è già bagnato. Ma che fa? Il mio è molto umido. Questo qui ha un problema. Il tuo lo fa invece. Guarda, il mio c'ha qualche problema. Il mio è glitter. Ma guarda bene. Non è soltanto glitter. Se tu lo guardi bene, esternamente è più scuro. Sembra che è il bordo fatto di viola e l'interno invece di argento. Poi guarda qua quando faccio tipo così. Allora, vediamo se... Eh, guarda, il puntino dentro rimane argentato e l'esterno è colorato. Questo ha un piccolo problema. Non ti pareva che ho beccato quello pallato. Vediamo il verdino che cosa fa. Allora, il verdino, vedi, sono nuovi. Quindi quello è già bagnato. Probabilmente ha un problema per quello. Invece qui devo spingere la punta per far uscire il colore. Io voglio provare troppo questo dorato. Ok, sta arrivando. Riprovo a fare ciao. Mi andrà bene questa volta. Ah, che bello. Bene. Oddio, guarda questo. Che bello. Tiè. Boom. Pazzeschi. Cioè, fanno veramente quello che dicono. Cioè, si vede da vicino. Guardate che meraviglia. Ve lo sposto così si vede. Guarda. Cioè, sembra di aver fatto la scritta ciao col verde e aver passato all'interno l'uniposca argento. Vero. Invece no, ho fatto una scritta sola. Allora, vediamo gli altri. Ecco, questo ha lo stesso problema. Cioè, che è il blu. Voi, secondo me sono i colori scuri, forse. Questo pure ha dei problemi. Diciamo che questo pacchettino è partito benissimo e invece si sta dimostrando una semi-ciofeca. Nel senso che quelli che colorano sono pazzescamente belli e gli altri invece no. Ah, questo è asciutto, quindi dovremmo stare salvi. Meno male il rosa funziona. È bellissimo. Se uno fa una cosa più grossa che succede? Il bordo rimane... Che bello. È bellissimo. È veramente bellissimo. Allora, diamo un voto a questo back to school. La, r, a. Che carino. Sai che facevo una firma così da ragazzina quando facevo i disegni? Eh, io mi firmavo i disegni cat. Bravo, facevo così. Sì, esatto. Avevi detto. Così. E mi firmavo così. Poi facevo zazzà e facevo zazzà. Allora, diamo un voto a quello che abbiamo visto. Questi. due o tre colori... Penarelli sono ciofechi, quindi due o tre penarelli sono semplicemente colorati e basta, ma non fanno l'effetto metallizzato. Voto sei, perché quelli che colorano sono veramente pazzeschi. Io otto. Li ricomprerei sì, perché li ho pagati veramente poco. Sarà veramente pochi euro, quindi valeva la pena, secondo me. Probabilmente ci sono di marche superiori. e questo è un po' una cinesata best di... non è una marca. Probabilmente ci sono di marca migliore. Sicuramente Carragliola saranno migliori, ma devono arrivare. I pastelli... i pennarelli nove, perché sono veramente belli. Belli, belli, belli. I pastelli? I pastelli anche questi otto. Otto. Bene. Otto perché preferisco i pennarelli, però... ma perché hanno loro perché? è questo che voto gli dai? 10 e lo 11. Sono contenta. Bene, almeno ti ho fatto contenta? Sì, quindi è un video che hai apprezzato? Sì. Spero che l'abbiate apprezzato anche voi. Allora, siccome so che ci sono tanti fan di Billie Eish, vi lascio in descrizione il link di dove l'ho preso. Questo pure arriva da Amazon Inghilterra ed è costato... non mi ricordo se 4,50, 5 euro, una cosa civile. Per un quaderno non è pochissimo, però comunque sia è cartonato, è rilegato come un libro quindi lo utilizzerò come quaderni ma anche per fare un regalo a un appassionato di Billie Eish secondo me per il prezzo che è li vale. I pennarelli e i pastelli li ho pagati 1,99 euro a pacchetto quindi direi prezzone considerando che sono colori desueti questi metto giù il link in descrizione e in caso mai cercate di prendere un modello analogo un pochino di livello un po' più alto. Ragazzi, grazie per aver visto questo video non so se faremo in tempo a fare altri back to school chi lo sa forse sì però i video sul nostro canale sono sempre tanti e sono praticamente quasi sempre quindi guardate anche il canale della post e soprattutto seguiteci anche su Instagram e su TikTok perché ci chiamiamo così Babbo un bacio un bacio a tutti e volevo fare un salutino speciale a Cristina che ha fatto la comunione e un bacione a una bimba che ho incontrato che doveva fare una visita e spero sia andata tutto quanto bene un bacio a tutti voi ci vediamo prestissimo ciao ciao ciao